Il Green Pass verrà prolungato nella sua validità, infatti passerà da 9 mesi di validità a un anno di validità. E' arrivato finalmente l'ok da parte del Comitato Tecnico Scientifico, il CTS, che va a estendere il prolungamento della validità di questo Green Pass, di questo foglio verde, per chi ovviamente ha ricevuto entrambe le dosi vaccinali, entrambe le dosi di vaccino contro il Covid-19. Un abbaccato d'ossigeno a livello logistico, dunque 9 mesi non sono più, ma 12 mesi, un anno di validità. In questo modo si ha più tempo, diciamo così, di essere validi per quanto riguarda il nostro territorio, il territorio italiano. Dunque è questo importante, intanto vi informo che per quanto riguarda le dosi vaccinali, con ogni probabilità uscirà anche la terza dose, già infatti si è vociferato già da qualche giorno a questa parte, che ci sarà una terza dose che verrà ad essere impiegata. Vi ringrazio per l'ascolto di questo video di oggi, cari utenti di YouTube, iscrivetevi al canale Narrato Italiano, commentate. Ciao a tutti e al prossimo video.